E buongiorno a tutti voi che ci seguite, allora eccoli qui i nostri quotidiani che andiamo a passare in rassegna. Green Pass, Draghi va avanti, siamo sulla prima del Corriere della Sera. Primo giorno di obbligo, blocchi e proteste di contrarre, l'allerta del Viminale, il rischio estremisti. In Libano le tensioni dopo la decisione di indagare sull'esplosione al porto, una guerriglia in strada a Beirut. Sei morti, si teme l'escalation, il titolo d'apertura in taglio alto di Repubblica e Reggiani, la decisione shock, ha zerato il processo. La Corte, manca la notifica agli imputati, la famiglia dice premiata la prepotenza egiziana. Ecco i genitori e la sorella di Giulio, Reggiani, sono Claudio, Paola e Irene, ieri fotografati. Poi il No Pass, il giorno della verità, ad oggi scatta l'obbligo del lascia passare sanitario per entrare nei luoghi di lavoro, annunciati sit-in e scioperi. Vado a chiudere con il titolo del sole, taglio alcune o pronti 9 miliardi, il governo non cede, mai tamponi gratuiti. C'è un'intervista al ministro Franceschini, Italia Blindata, allerta a Trieste, il prefetto. Lo sciopero è illegale. Grazie. 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 Grazie a tutti